Il mondo scoprirai, molte cose imparerai, Blippi! Wow! Guardate dove siamo! Siamo al Giggle Jungle! Andiamo! Ehi! Ehi! Wow! Guardate com'è colorato questo posto! Uh! Guardate! Il colore bianco, blu e verde! Uh! Guardate questo! Wow! Che cos'è? È fortissimo! Monta su amico! Wow! Guardate! È il colore verde! Wow! Wow! Qui ce n'è un altro! Andiamo! Io salgo qui! Oh! Scusa amico! Questo è il mio preferito! Davvero? È fortissimo! Perfetto! Proviamo questa! Wow! Devi stare così! Fai come me! Wow! Wow! Blippi, guarda! Questo è il colore rosa! E questo è il colore... Verde! Uh! Andiamo! È questo! Oh! Vuoi entrare qui? Entriamo qui! Wow! Ok! È il mio turno! Andiamo di là! Qua! Qua! Cos'è? Questo cuscino è di colore arancione! E questo cuscino è di colore blu! Guardate! È questo! Come me! Andiamo! Delfini! Delfini! Anche io! Un delfino verde! Esatto! Un delfino verde! E guardate questo! E questo? Uh! Un delfino rosa! Oh! E... Un delfino blu! Anche io! Wow! Seguitemi! Andiamo! Ok! Vai tu! Andiamo! Entra qui! Wow! Wow! Entra! Guarda! Andate! Wow! Guarda questo! Entra qui! Wow! Yeah! Ok! Entro anche io! Ok! Wow! Wow! Guarda quanti palloncini! Ci sono anche palloncini di là che mi piacciono di più! Ah sì? Wow! Sì! Wow! Guardate questo palloncino! È di colore rosso! E questo è di colore blu! E' vero io! Vedete? Il colore blu! È mio! E il colore verde! L'ho visto prima io! Wow! Wow! E questo è il colore rosa! Rosa! Wow! Oh! Wow! Ci si diverte così tanto qui dentro! Io prendo questo! Ok! Andiamo da questa parte! Su! Tutti da quella parte! Bene! Passa tu! Vai! Guarda! Guarda lo scivolo! Ok! Scivola giù! Wow! È il mio turno! Wow! 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 Che bello! Whee! Ok! Lo faccio di nuovo! Scendi dall'altro lato! Di là! Di là? Ok! Vado! Wow! Sono accaduta! Ancora! Ancora! Arrivo! Wow! Volete provare? Lo faccio di nuovo! Ok! Provate voi! Fate attenzione! Attento! Ora scendo! Wow! Yeah! È stato divertente! Andiamo! Wow! Eccoci qui! Guarda questo! Yeah! Wow! Questa cosa gira in tondo! E ci si può arrampicare! Sono arrivato! Wow! Sono arrivato quasi in cielo! Ora scendo! Wow! Guarda! Il colore blu! Il colore rosa! Il colore blu! Il colore rosa! E il colore blu! Hai già cavalcato il delfino? Sì! Guarda! Che bello! Cucù! Trovato! Ecco! Ehi! Che bello! Sono di qua! Wow! Wow! Ci si diverte da matti! Al Giggle Jungle di Redmond, Washington! Ciao a tutti! Ehi! Sono io, Blippi! Guardate dove ci troviamo! Esatto! Siamo in un grande parco giochi al coperto! Nel centro commerciale di Tacoma, Washington! Andiamo! Wow! Ciao! Buon divertimento! Grazie! Venite! La prima cosa da fare è toglierci le scarpe! Una scarpa! Due scarpe! Ci vediamo dopo! Wow! Guardate! Wow! È stato divertente girare nella trottola! Ehi! Un pianoforte! È stato fantastico! Sì! Wow! Proviamo questo gioco a forma di cerchio! Forse seduti qui dentro possiamo girare e andare a testa in giù! Wow! Infatti mi sono capovolto una volta! Ehi! Ehi! Uno scivolo! Coraggio! Proviamolo! Wee! Wow! E per terminare in bellezza continuiamo a girare! Wee! Wow! Adoro girare! E voi? Wow! Wow! Mi gira un po' la testa! Wow! 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 Guardate qua! Sì! Sto per sparare queste palline con una pistola giocattolo! Wow! Voi andate di là a controllare se colpisco il bersaglio! E' stato fantastico! Non ho colpito il bersaglio ma ci sono andato vicino! Ehi! Parlando di bersagli! Guardate! Ce n'è uno qui! Wow! Vedete i colori del bersaglio? Già! Se partiamo dall'esterno ci sono il rosso, il giallo, il verde, poi il blu, l'azzurro e di nuovo il rosso! Ehi! Sapete come si chiama in inglese il centro del bersaglio? Ebbene! Si chiama occhio del toro! Yeah! Mmm! 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 Oh! Guardate queste palline! Wow! Wee! Sentite, ho un'idea! Mettiamole qui dentro e poi premiamo il pulsante! È stato troppo forte! L'aria ha fatto volare le palline spingendole dal basso verso l'alto! Va bene, ho un'altra idea! Vediamo quante palline riesco a prendere! Oh! Me ne è caduta una! Allora, contiamo quante ne ho in mano! Avete visto? Due sono appena cadute! Quindi partiamo da due! Tre! Quattro! Cinque! Sei! Sette! Otto palline! Wow! Sono riuscito a tenere in mano un sacco di palline! E ora vediamo di che colore sono! Ecco qua! C'è il rosso, poi il viola, e infine l'arancione! Wow! E voi sapete cosa so fare con tre palline? Sì! Attenzione! Wow! Yeah! Wow! Ciao! Guardate! Cammino in equilibrio su questi cuscini circolari! Wow! Aspettate un attimo! E questo cos'è? È una palla a punte! Wow! E adesso la farò girare molto velocemente! Wow! Ok! Ora nell'altro senso! Wow! Va bene! Ora la faccio girare lentamente! Pronti? Wow! Ragazzi, che forza! Sta arrivando! Wow! Avanti, venite! Ok! Avete visto? Sto in equilibrio sulle spine del cactus! Wow! Wow! Guardate questi! Oh mamma, io ci passo a malapena! Rimarrò schiacciato! Wow! Ehi! Questa è una coppia di cilindri grossi e arancioni! Ora esco! Ce l'ho fatta! D'accordo, andiamo avanti! Wow! Guardate questa! È un tipo di altalena! Whee! Haha! Whee! È davvero divertente! Ed è anche rilassante! Ah! Voi siete mai stati su un'altalena? Esatto! Ad esempio al parco giochi! Io l'ho fatto! Sì, è un bellissimo gioco! L'altalena continua a muoversi perché io mi spingo in avanti quando va avanti! 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 Ora mi spingo indietro! Indietro! Avanti! Indietro! Avanti! Indietro! Avanti! Haha! Oh! È fantastico! Ok, vediamo che c'è di là! Bene! Ora proverò a saltare oltre questo... Cilindro rotante! Ma prima ditemi che colori sono questi? Sì! Sono l'azzurro e il giallo! Bene! Andiamo! Wow! Oh! Ahahahah! Sono uno sciocco! Wow! Ehi! Belli questi! Dobbiamo starci sopra in equilibrio! Ma di che colore sono? Wow! Wow! Oh! Ahahah! Scendo così! Sembrano dei bersagli, non è vero? Sì! Quindi di che colore sono? Ci sono due dei miei colori preferiti qui! Dai! Allora partiamo dall'esterno e andiamo verso il centro! Allora, questo colore si chiama arancione! Certo, lo sapevate! E questo che colore è? Esatto! È il giallo! E questo al centro del cerchio? È il colore azzurro! Ecco, due dei miei colori preferiti! Ovvio l'azzurro e l'arancione! Oh! Oh! Ancora! Ancora in equilibrio! Wow! Wow! Un ponte tibetano, azzurro e arancione! Oh! Che gioco forte! Wow! Ecco un'altra grande sfida! Oh sì! Adoro le sfide! Cominciamo! Whee! Wow! Giro a trattola! Avanti di uno! Wow! Adesso contiamo quanti giri riesco a fare sull'ultimo! Pronti? Allora vado! Uno! Due! Tre! Evviva! Wow! Mi gira un po' la testa! Wow! Wow! Bene! Ora devo cercare di non cadere! Wow! 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 Vedete come gira? Per questo è molto difficile starci sopra! Va bene! Ci siamo! Wow! Wow! ecco qua! Cominciamo! Rosso! Verde! Grigio! Wow! Guardate qui! Esatto! Abbiamo un tubo giallo e uno bianco quasi azzurro! Ah 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 ah! Wee! Ah ah ah! Wow! Ah ah ah! Bello! Ok! Andiamo! Ehi! Vedete questo? Se lo ruotiamo verso destra lo vediamo così! Questa è anche la direzione in cui gira l'orologio analogico per questo si chiama senso orario ecco! Lo vedete? Invece guardate ora wow! Adesso stiamo girando nel senso contrario esatto! Lo stiamo facendo girare verso sinistra vedete? Sinistra! Sinistra! Questo si chiama senso anti-orario wow! Andiamo! Wow! Sta arrivando! Wow! Oh! Arriva! Wee! Ok! Venite! Wow! Insieme diciamo i colori rosso grigio verde oh! Un momento! Ho appena detto verde questo bottone non è verde di che colore è allora? Infatti questo bottone è arancione ehi guardate qui come sono sciocco è questo il bottone verde dai riproviamoci pronti? Arancione verde rosso grigio bravissimi wow! Wow! guardate qui è come una rete forte mi sento come un insetto dentro una ragnatela wow! wow! che buffo wow! wow! già! ottimo lavoro wow! guardate un po' qui già che cos'è? wow! questo è uno scivolo già io adoro gli scivoli perché partiamo dall'alto ma la gravità ci fa scendere velocemente verso il basso e il grado della pendenza dello scivolo determina la velocità con cui scendiamo insieme a tanti altri fattori come la frizione la velocità del vento la resistenza aerodinamica ah 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 ad ogni modo scommetto che scenderò molto velocemente ah ah sono pronto 3 2 1 wow! ah 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 è stato fantastico adoro scendere da questo scivolo è super veloce e poi amo imparare cose ah 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 che bello saltare sul tappeto elastico ah 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 ehi state a vedere ora salterò molto in alto wow! 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 ah 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 adesso invece salterò molto in basso forte! ah 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 è stato molto divertente giocare e imparare voi vi siete divertiti? sì, anch'io, tanto bene, siamo arrivati alla fine del video ma se volete vederne degli altri non dovete fare altro che cercare il mio nome volete fare lo spelling con me? B-L-I-P-P-I Blippi, ben fatto va bene, a presto ciao ciao Blippi, il mondo scoprirai molte cose imparerai Blippi ehi, sono io Blippi e oggi sono al Whiz Kids Playland di Phoenix, Arizona wow io e lui stavamo dipingendo cosa fate lì dietro? ehi ehi, possono venire qui a giocare? certo, divertitevi forza andiamo a dipingere wow ehi, guardate come ti chiami? Langston uh, lui è Langston e cosa stai facendo, Langston? sto dipingendo una R uh, stai dipingendo una R? wow, che carina ben fatto uh, guarda cosa sto dipingendo io wow wow, che cos'è? un albero un albero, esatto cos'è quell'altra cosa? vediamo un po' disegniamo un trucco sì, perfetto bene un albero col tronco e poi aspetta un un momento rosso su nel cielo vi capita mai di fare degli errori? beh, questo errore adesso è un uccello già, è un uccello adesso che uccello che uccello un uccello così sono un uccello wow guardate qui wow wow che giochi interessanti guardate ingranaggi quando si gira questo gira anche quello e quando gira quello gira quell'altro e quando gira quello gira anche quell'altro forte è un'auto wow e che cos'è questo? wow un elmetto da pompiere wow che forte prima stavamo dipingendo e giocavamo a fare gli artisti mi piace fare l'artista e mi piace anche giocare a fare il pompiere mi piace fare il pompiere perché posso spegnere il fuoco con l'acqua andiamo a pulirci le mani ok vediamo un po' che cos'altro posso fare qui che divertente ok rimettiamo a posto l'elmetto da pompiere qui proprio dove l'abbiamo preso che altri giocattoli ci sono? wow ce ne sono così tanti wow wow guardate questo tavolo wow com'è colorato già questo qui è di colore blu e ci sono dei cinturini uh e questo è di colore rosso e insegna come annodare un laccio come quello delle scarpe vedete? wow e questo è di colore giallo questo insegna come abbottonare una camicia come la mia uh arancione con dei lacci oh viola questo è nuovo già dei bottoni a pressione funzionano così uh verde questo insegna a chiudere le cerniere wow che forte wow guardate qui wow quante cose già le lettere dell'alfabeto uh wow che buffo ehi ho un'idea prendiamo una lettera e cerchiamo di capire dove va che lettera è questa? bravi la lettera F A B C D E F E F già F va qui ben fatto wow che divertente wow un altro tavolo molto interessante wow ok guardate qui wow sembra il corpo umano wow qui ci sono i polmoni uff uff servono a portare l'ossigeno nel nostro corpo wow wow mettiamo i polmoni qui uff c'è il cuore wow questo pompa il sangue in tutto il corpo lo sentite se vi appoggiate sul petto di qualcuno boom 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 oh sapete come altro si sente? con uno stetoscopio wow ascoltiamo il vostro battito wow sento il cuore wow sapete chi ascolta il battito del cuore? esatto gli infermieri infermieri e dottori mi piace giocare all'infermiere è divertente bisogna assicurarsi che i pazienti stiano bene e in salute oh ok rimettiamolo a posto bene wow guardate wow qui è dove si allenano i giocatori di football wow i giocatori di football sono atleti professionisti anche questa è una professione ho un'idea ora vi mostro come si fa questo percorso proprio come un atleta professionista pronti? 3 2 1 yeah ce l'ho fatta è stato divertente fare il giocatore di football professionista ehi guardate tutta questa erba che bella sensazione mi viene voglia di rotolarmici wow oh 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 cos'è questo? wow è un cavallo e c'è un cappello da cowboy o cowgirl ehi ho un'idea mettiamoci il cappello andiamo a cavallo e facciamo finta di essere agricoltori cowboy e cowgirl ok wow mi piace giocare a fare il cowboy è divertente andare a cavallo col vento che soffia sulle orecchie e fra i capelli è una giornata soleggiata wow ok bene cavallino ci vediamo dopo è stato divertente stare in campagna e in fattoria oh ehi un furgone dove si può comprare del cibo chissà come è arrivato qui questo cibo oh un ristorante da dove arriva questo cibo? proprio dietro di me questo è un supermercato questo è un altro lavoro giochiamo a fare i commessi ok controlliamo che tutti gli scaffali siano riforniti ok sembra che ci siano dei limoni e del mais perfetto questo dovrebbe andare qui sono delle fragole e dei lamponi un peperoncino molto saporito ma anche piccante ok cos'altro abbiamo qui? wow c'è del soffice riso bianco mi piace il riso wow oh dei cereali alla frutta colorati wow penso che sarebbe molto divertente lavorare al supermercato perché starei in mezzo al cibo tutto il giorno e spesso sono affamato ve lo voglio dire mi piace mangiare ma mi piace mangiare cibi sani ok vi faccio il conto wow perfetto wow qui c'è il resto che vi devo ecco voi ok bene ho finito il turno ok possiamo andare a casa è stato divertente lavorare al supermercato wow wow un'auto si parte sono un pilota di auto da corsa wow wow è stato divertente anche il pilota di auto da corsa si può fare come lavoro sarebbe divertente ok wow che forte scommetto che sapete di che lavoro si tratta già per farlo bisogna indossare un elmetto sapete cosa sono adesso? esatto un operaio edile un carpentiere un tutto fare oh oh More diceva wow lavoro col cacciavite tutto il giorno oh e un trapano wow patate attenzione c'è anche una sega affilata già ok wow wow rimettiamolo a posto Sto cominciando ad essere stanco e ho anche un po' di fame! Ehi, ho un'idea! Guardate questa casa! Ha una cucina! Già, vedete? Questa è una cucina! Sapete chi sta in cucina tutto il giorno e cuoce il cibo? Esatto, lo chef! Wow, mi piace cucinare! Wow, cominciamo! Ho acceso il fuoco! Ok! Ok, saltiamo un po' di cipolle e funghi! Gnam! Non vedo l'ora! E guardate! Sto cuocendo un uovo! Buono! Gnam! È pronto! Ok, mettiamolo qui! Perfetto! Buon appetito! Ok, rimettiamo a posto questa padella e ci sediamo! Wow! Ora che abbiamo finito di cenare... Sono piuttosto stanco! È stato divertente imparare con... Wow! Che succede? Wow! Ma sono sirene! Oh! Alcuni lavoratori, alcune persone devono essere reperibili in ogni momento! Devono andare al lavoro appena li chiamano! E uno di questi lavori è l'agente di polizia! Ok! Dobbiamo tenere i cittadini al sicuro! Wow! È piuttosto pauroso fare il poliziotto! Bisogna rispettarli perché ci tengono al sicuro! Oh! Ok! È sicuro! Wow! Wow! Guardate quest'area! Wow! Quest'area è per bambini e neonati! Wow! Quanti colori! Wow! Guardate questa piramide colorata! Wow! Oh! Che colori sono questi? Wow! Sta crollando! Beh! Questo è verde! Questo è rosso! Questo è giallo! Questo è arancione! Questo è blu! E questo è viola! Wow! Oh! Ehi! Guardate! Un altro oggetto colorato! Sono un musicista! I musicisti creano bellissima musica! Proprio come me! Wow! Wow! Quest'area è fantastica! Wow! E guardate questo muro! Wow! Questi sono pianeti? Oppure sono... Sono stelle? O... Sono nuvole? Ehi! C'è un lavoro che ti porta a girare per il cielo! Lo conoscete? Esatto! L'aviatore! Ok! Adesso metto il berretto da aviatore! Oh! Non devo dimenticare gli occhiali! Così non mi vanno i moscerini negli occhi! Ok! Si parte! Miuuu! Wow! Sto volando nel cielo! Wow! 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 Pilotare un aereo è fantastico! Wow! Wow! Oh! Accidenti! È stato molto divertente imparare cose riguardo i vari lavori! Beh... Ehi! Uno speciale ringraziamento a Whiz Kids Playland di Phoenix, Arizona! Siamo arrivati alla fine della puntata, ma se volete vederne altre, tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome! Vogliamo fare lo spelling? B-L-I-P-P-I Blippi! Ben fatto! Dunque ragazzi, è stato proprio divertente imparare cose su tutti questi lavori! E voi potete diventare quello che volete! Cosa volete fare da grandi? Già! Potete farlo! Potete fare tutto quello che volete! Ma solo se vi impegnate davvero tanto e con costanza! Ok! Buona fortuna! Ti divertirai! Blippi! Blippi! Il mondo scoprirai! Molte cose imparerai! Blippi! Ehi! Ehi! Sono io, Blippi! E guardate cosa sto mangiando! Wow! Sto mangiando una gustosa ciliegia! Mi piacciono le ciliegie! Ho tirato via il picciolo e sputato il nocciolo! Le ciliegie sono così dolci! Ehi! Chissà come fanno le ciliegie ad arrivare dai campi di ciliegie a questa confezione! Ehi! La prima cosa da fare è prendere le ciliegie dal loro albero! E poi metterle in questa cesta proprio qui! E quando la cesta è tutta piena, così... Raggiungiamo questa cassa... E versiamo le ciliegie! Wow! Guardate quante ciliegie ci sono! Quando le casse sono piene di ciliegie, piene piene fino in cima, il trattore le carica e se le porta via! Ciao! uh quante ciliegie sembrano proprio gustose le ciliegie mi piacciono e crescono in grappoli come potete vedere qui prendiamo un grappolo e contiamo quante ciliegie ci sono attaccate wow ok una ciliegia due ciliegie e tre ciliegie queste qui sembrano proprio gustose le ciliegie sono di colore rosso wow guardate questa porta gigante dobbiamo chiudere il retro del camion bene adesso che il camion è pieno di ciliegie è arrivato il momento di portarle al confezionamento grazie a tutti ciliegie ok ora che le ciliegie sono arrivate allo stabilimento vengono rovesciate nell'acqua per selezionarle e impacchettarle guardate wow quante ciliegie sembrano gustose ora è il momento per le ciliegie di iniziare il loro viaggio sul nastro trasportatore guardate ci sono un sacco di ciliegie quello che sto facendo ora è oh eccone uno sto togliendo i piccioli per buttarli via e poi sto cercando anche già sto cercando le foglie per buttarle via oh eccone una sì un'altra foglia ben fatto ne prendo oh sì ok adesso controlliamo che queste ciliegie siano belle pulite così possono andare su quel nastro trasportatore e poi saranno pronte per essere mangiate oh ehi quello che si fa qui è mettere le ciliegie in queste vaschette fino a quando sono piene perfetto e questa è una bilancia per pesarle e quando raggiungono il peso giusto si chiude la vaschetta per mandarla al negozio le ciliegie sono tutte impacchettate e ora vengono caricate nel cassone del camion guardate io sono un frutto rosso che molto dolce o astro è se in un luogo climamite è io ovunque posso crescere all'inizio un semino son dopo poco tempo fiorirò poi in albero mi trasformerò e in estate un frutto diventerò una ciliegie siano suonerò una ciliegie siano pianderò sopra il cioccolato sto un buon gusto a tutti i dolci do caldo e appiccicoso diventerò se con una torta mi cuocerò puoi usarmi sempre a volontà siroppi, succhi, smoothie da gustar ogni cosa con me più buona sarà una ciliegie siano suonerò una ciliegie siano suonerò però ehi amico guarda ora sono maturo le ciliegie sono così saporite guardatele sono rosse wow mangerò un'altra ciliegia ok questa non ha il gambo no scusate ma aveva il nocciolo wow buone le ciliegie mi piace imparare come fanno ad arrivare dai campi fino ad una confezione come questa pronte per essere mangiate beh questa è la fine del video ma se volete vederne altri tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome vi va di fare insieme lo spelling? ok pronti? B L I P P I Blippi ottimo lavoro bene ci vediamo presto ciao ciao sono io Blippi è sera e siamo in un parcheggio ci sono un sacco di negozi wow guardate questo negozio è il parco giochi al coperto Kinderland di Las Vegas Nevada andiamo wow questo posto è coloratissimo prima di giocare dobbiamo toglierci le scarpe bene scarpa uno scarpa due adesso siamo pronti per giocare andiamo andiamo yeah wow guardate questo ciao wow sono in una casetta c'è una palla gialla guardate e una palla blu una palla verde una palla rossa e una palla arancione e una palla arancione andiamo wow guardate qui sì sì è una vasca di palline saltiamoci dentro wow 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 quante palline colorate wow cos'è questo? è un dinosauro questo è un opterodattilo vediamo cos'altro troviamo wow 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 questo è un altro dinosauro è un tirannosaurus rex mi piacciono i tirannosauri ciao ciao wow 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 guardate questo è uno stegosauro stegosauro imitiamo insieme uno stegosauro ok pronti? ciao ciao wow wow quante palline colorate continuiamo a giocare wow wow guardate una macchina della polizia wow 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 guardate un camion dei rifiuti wow 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 mi piace la raccolta dei rifiuti e il camion dei rifiuti wow 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 Chamon uuuu uu? uuuu? uuu? uu? uuu? uu? un camion ribaltabile e già un aspirapolvere bene tutto bello pulito guardate questa palla gigante arancione appuntita guardate questa è una palla blu e questa è una palla piccola appuntita arancione e blu guardate qui ciao andiamo guardate uno scivolo bene io vado lo scivolo è stato divertentissimo è così colorato voglio arrampicarmi sono il re del mondo ok adesso è il momento di scendere cosa abbiamo qui ciao avete fame io ho molta fame ho comprato qualcosa prima guardate quanta frutta e verdura yum vediamo cosa posso preparare vediamo eh devo prima tirare fuori le stoviglie il piatto e la ciotola guardate qui vi ho preparato degli spaghetti bene yum condiamoli yum ecco fatto e sapete cos'altro ho vi piace la pizza sì ok guardate qui sembra saporita bene prendiamo la paletta e tagliamo la pizza uh guardate questa fetta di pizza per voi bene perfetto ecco a te uh è bollente è appena uscita dal forno uh per renderla ancora più bollente ci metto sopra della salsa piccante oh ma prima di metterla sulla pizza assaggiamola è proprio buongiorno ah oh no guardate queste venite qui questa ha le ruote sotto la faccio correre un po si parte che divertimento eccone un'altra mi chiedo cosa succederebbe a cavalcarla bene si parte è stato divertentissimo eccone un'altra bene faccio partire pronti guardate questa struttura andiamo e ha degli scalini coloratissimi questo è il colore nero questo è un colore nuovo wow questo è granata questo colore è il colore rosa blu verde viola rosso e grigio guardate qui è uno scivolo ok io vado wow 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 altre palline colorate guardate questo lo faccio di nuovo bene ora tiro fortissimo è rimbalzata sulla parete e mi ha colpito in faccia wow 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 attenzione wow wow ciao wow guardate questa rete gialla wow e guardate cosa abbiamo qui wow 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 è uno scivolo gigante rosso wow ehi ma cosa c'è lì davanti wow wow è un muro fatto di blocchi di gomma è ora di andare ma ci bloccano la strada aspettate un secondo perché non scivolare giù e buttarli per aria siete pronti bene vado wow 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 è stato divertentissimo visitare il parco giochi al coperto kinderland di las vegas nevada beh siamo arrivati alla fine del video ma se volete guardarne altri sapete cosa fare esatto cercate il mio nome ripetiamolo tutti insieme pronti b l i p p i bl p ben fatto ci vediamo ciao ciao